L'amministrazione pubblica compie un'importante svolta verso il digitale. Dal 15 novembre tutti i cittadini italiani potranno scaricare dal proprio computer i certificati anagrafici personali o di un componente della propria famiglia in modo gratuito senza doversi quindi recare allo sportello. Il percorso sarà semplice. Basterà collegarsi al portale che contiene i dati, l'anagrafe nazionale della popolazione residente del Ministero dell'Interno, muniti della propria identità digitale, lo SPID. Se la richiesta viene effettuata per un familiare, il sistema indicherà l'elenco dei componenti per cui è possibile richiedere un certificato. Il nuovo servizio consente di ottenere online ben 14 certificati, da quello di nascita a quello di matrimonio, dal certificato di cittadinanza a quello di residenza, di stato civile o di stato di famiglia. È possibile anche vedere in anteprima il documento per verificare la correttezza dei dati. L'anagrafe nazionale della popolazione residente già ad oggi raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana, inclusi gli italiani all'estero.